Ancora una sconfitta, ancora, contro una che poteva essere avversaria diretta per la corsa salvezza. Dopo il pareggio, lo scontro diretto con il Pescara e la sconfitta contro l'Empoli, è arrivata anche quella contro il Sassuolo. Il Palermo è sempre più in crisi e la minaccia Serie B diventa giornata dopo giornata sempre più realtà. Contro il Sassuolo e il Rosa Nero si sono dovuti arrendere addirittura per quattro reti ad una. E pensare che la strada si era messa in discesa per la squadra di Corini, quando dopo appena nove minuti, Robin Quaison ha portato in vantaggi i suoi con la quarta marcatura personale in stagione. Dura però poco il vantaggio Rosa Nero, appena sei minuti, tanto è infatti passato dal pareggio di Matri, che è servito da Berardi, col destro deposita la palla alle spalle di Posavec. Il vantaggio dei nero-verdi spezza le gambe alla formazione siciliana. Antonino Ragusa, dopo un bel dribbling, supera con un pallonetto l'estremo difensore palermitano e fa 2-1 forse nel momento migliore del Palermo in gara. Nella ripresa, Corini prova a cambiare le carte in gioco, ma è ancora la formazione nata da Di Francesco a trovare la via del gol, a timbrare il cartellino e ancora Matri, che approfitta, con l'ausilio di Ragusa, di una grave disattenzione della difesa avversaria. Il poker è servito nel finale e porta la firma di Matteo Politano, che al minuto 83 batte Posavec con un diagonale preciso. Dopo questa pesante sconfitta, Zamparini è già pronto ad attuare l'ennesima rivoluzione in casa Palermo. Il patron rosa-nero vorrebbe infatti Nicola Salerno, quale nuovo direttore sportivo, ed avrebbe inoltre contattato Ballardini per affidargli la panchina.